Eri amici di Ancora Italia, sovrana e popolare, di democrazia sovrana e popolare, buona domenica e anche buona Pasqua. Sarà una Pasqua di resurrezione per tutti quelli che sono stati colpiti, diffamati, sono stati isolati, demonizzati nel corso degli ultimi due o tre anni, vissuti con l'insegna di una vera e propria follia collettiva. Il clima fortunatamente sta cambiando, tanti di quei personaggi che con fare davvero cinico e indegno avevano goduto nel provocare sofferenze contro cittadini inermi che avevano soltanto la colpa di non aver accettato una narrazione farloca, questi signori cominciano adesso a dover rendere conto del loro nefasto operato. In questo senso accogliamo con soddisfazione la condanna al risarcimento delle spese per gli eredi del grande e compianto Montagnè. Montagnè che è stato insolentito, Montagnè un gigante della medicina, un uomo libero e onesto, insolentito da figure che certamente non hanno il suo curriculum e la sua storia, in particolare dalla Virostar Bassetti che aveva avuto l'ardire di definire un luminare come Montagnè alla stregua di un rincoglionito affetto da Demenza Senile. Ancora qualche giudice in Italia c'è e ha condannato Bassetti a risarcire gli eredi del grande Montagnè. Ma non è soltanto questo un piccolo segnale che va nella direzione della restituzione della dignità a quella categoria di persone che avendo capito meglio e primo degli altri quello che stavano combinando non hanno chinato il capo di fronte alla violenza sistemica. Tanti giornalisti che hanno cavalcato quel clima in maniera davvero irresponsabile sono adesso ai margini del circuito informativo, rischiano di non avere più palchi da dove veicolare notizie sbagliate perché il pubblico sta punendo quei presentatori che hanno cercato in tutti i modi non di informare ma di imporre una tesi per il tramite di manipolazioni sempre più ardite. Il nuovo governo dovrebbe poi parare a breve una commissione parlamentare d'inchiesta che faccia finalmente luce sulle tante sconcezze compiute. Nei giorni scorsi insieme a Marco Rizzo abbiamo incontrato il ministro della Sanità Schillaci che devo dire ci ha accolto con grande gentilezza, ha parlato poco ma ha ascoltato con attenzione le cose che noi abbiamo detto, abbiamo chiesto di rivedere completamente le scelte fasulle di Speranza, abbiamo chiesto una radicale continuità anche negli uomini, abbiamo chiesto al ministro di rispettare la libertà della persona umana che non può mai essere messa in condizione di dover affrontare dei rischi concreti sulla propria salute, forse anche per dover in prospettiva salvare quella di tutti gli altri. Insomma siamo stati accolti con grande garbo istituzionale anche perché le istituzioni sono di tutti, non sono soltanto di una parte politica, gli uomini delle istituzioni devono ascoltare e rispondere anche a quella parte di società che legittimamente, come facciamo noi, contesta le scelte di indirizzo politico del governo ora in carica, che le contesta in maniera particolarmente chiara e forte, specie con riferimento al proseguimento di una guerra indegna e in fausta. Noi appoggeremo con grandissima forza, metteremo in campo tutte le nostre energie per aiutare un uomo limpido, un uomo concreto, un uomo apprezzabile come Enzo Pennetta, capo del Comitato Ripudia alla Guerra, a riuscire nel suo intento. Dobbiamo raccogliere in pochi mesi 500 mila firme, partiremo con ogni probabilità tra pochi giorni, tra poche settimane e siamo convinti che Enzo Pennetta, con le persone che insieme a lui si sono adoperate per rendere possibile la presentazione di questo referendum, siamo convinti che Enzo troverà il sostegno di centinaia, di migliaia di cittadini, il nostro auspicio è milioni, pronti a fare tutto quello che è possibile per invertire il corso degli eventi. Non è continuando a mandare armi in Ucraina che miglioreremo la situazione in atto, non è possibile assistere passivamente alla completa fine del principio di sovranità del nostro Paese, oramai etero diretto, senza tanti infingimenti dai poteri Nato e in particolare dai gruppi di pressione anglosassoni che contano a Washington e a Londra. Vogliamo riconquistare un minimo di margine di manovra, non possiamo vivere sempre in ginocchio di fronte ai Paesi che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, paradossalmente l'Italia era più libera, si muoveva in maniera più seria e incisiva nella Prima Repubblica, quando il nostro Paese era diventato punto di riferimento per tante nazioni in via di sviluppo e per tanti Paesi non allineati. Adesso invece siamo trattati alla stregua dei Paesi baltici o al limite dei polacchi, meri servitori dei padroni incapaci di analisi critiche, incapaci di ragionare in termini autonomi e indipendenti. Non vogliamo che 60 milioni di cittadini italiani vengano messi in pericolo da un governo che anziché rispondere alla pubblica opinione interna pare interessato soltanto ad assecondare le mire di potenza di un circuito decadente, quello di Biden e dei suoi amici globalisti che presto lascerà il campo ad una nuova era e ad una nuova classe di dirigenza. Giorgia Meloni quindi rischia di legarsi ad un mondo morente e di affondare insieme a questo macigno che sembra oggi forte e potente ma che in realtà è in via di rapida decomposizione. La nostra speranza è che gli errori del nostro governo non finiscano per essere amaramente pagati da ogni singolo cittadino italiano. Voglio poi darvi una bella notizia, quella che per me è una splendida notizia e mi auguro anche per ognuno di voi. Come sapete da mesi lavoriamo alla costruzione di un mensile di geopolitica, cultura, attualità, economia che abbiamo deciso di chiamare Visione, un altro sguardo sul mondo. Si tratta di un'operazione ambiziosa che noi cercavamo da tempo di mettere in piedi. Questo tempo è finalmente arrivato ed è un'operazione della quale sono particolarmente orgoglioso. Voi sapete che senza teoria rivoluzionaria non esiste movimento rivoluzionario. Noi questa teoria vogliamo offrirla ad un popolo che è spesso messo nelle condizioni di combattere un sistema a mani nude senza neanche gli strumenti ideologici e concettuali utili per raccontare una storia diversa, per non limitarsi a demistificare il racconto dai padroni, ma per proporre un pensiero in grado di indicare strade e soluzioni differenti. Il nostro mensile servirà proprio a questo, cioè a mettere insieme, a condensare dentro un unico strumento culturale e informativo il fiorfiore dell'intelligenza cosiddetta contrappositiva, quella che negli ultimi anni si è battuta con maggiore forza e coraggio, onestà intellettuale contro il leviatano, contro il mostro che ha utilizzato la paura per imporre un nuovo e perverso sistema di governance. Il primo numero che verrà fuori a maggio si chiamerà la fine dell'impero del male. Naturalmente intendiamo in questo modo fare il verso a quella negativa sintesi offerta da George Bush Junior in tempi remoti, quando con riferimento ai paesi non allineati disse che gli Stati Uniti d'America avrebbero sconfitto il cosiddetto asse del male. A distanza di molti anni invece tante persone si sono risvegliate e si sono rese conto che il vero impero del male è quello globalista, è quello che cammina sulle gambe di un totalitarismo liberista che non consente nessuna dialettica, che zittisce quelli che non condividono questa impostazione angelicata. Vengono accusati quelli che si oppongono di essere dei disinformatori. Viene imposto il bavaglio tramite l'utilizzo spregiudicato di giornalisti alla mentana che anziché ragionare sugli errori commessi pensano di spiegare agli altri quello che possono o non possono dire o persino pensare. Ecco, Visione è uno strumento di resistenza, è un luogo, è un tetto sicuro, è un posto caldo, accogliente per tutti quelli che sono oggi smarriti, che sono costretti a combattere spesso in condizioni di assoluta minorità contro un sistema tirannico, glaciale, ipocrita, potente, che controlla tutte le leve dell'informazione, che gestisce non solo il denaro, tante ricchezze, ma persino sovrintende la produzione stessa del denaro. Questo mostro globalista sembra invincibile, sembra destinato a soffocare, a sopprimere sul nascere qualsiasi minaccia vera o presunta, ma in realtà proprio adesso, proprio mentre l'impressione della pubblica opinione è che questo mostro sia assolutamente iscalfibile, noi siamo convinti invece che sia iniziato il declino di questo gigante con i piedi d'argilla. Tutti quelli che vogliono sedimentare una contrapposizione al sistema ideologicamente orientata, culturalmente forte e che non vogliono perciò cadere nelle grinfie di demagoghi, urlatori, personaggi da strapazzo, gentaglia che magari utilizza la disperazione della gente per costruire carriere personali sulla base dell'odio, del rancore e della mera violenza verbale, tutti quelli che vogliono fare uno scatto di qualità rispetto alla costruzione di un'area filosofica e culturale, politica e informativa del dissenso e della resistenza, troveranno certamente in visione un altro sguardo sul mondo, uno strumento indispensabile, non soltanto dal punto di vista armeneutico, cioè per demistificare il racconto perverso del potere, ma riusciranno anche a metabolizzare una diversa idea dell'uomo, del mondo e dell'idea stessa di persona per contrapporre alle idee cattive oggi prevalenti, idee buone che noi saremo in grado di far trionfare con la nostra costanza, con la nostra presenza. Grazie ancora a tutti voi, buona Pasqua. Grazie a tutti.